che bella ecco già ne ho trovata una bellissima eccola che carta è blaziken blaziken che bello poi poi già una al contrario eccola poi questa questa carta qui gloria va bene dai intanto aprile tutte e l'album nuovo dove è messo quello che ci fai scusa ma hai ancora spazio in questo album grande quale carte metterai nell'album piccolino le potenti in mazzetta abbiamo trovato quella più bella che mi è piaciuta è questa qui bella anche se gli esce tutto chiaro però vabbè poi una cosa aprili tutti dai poi adesso con questo cominciamo ad aprire e troviamo che troviamo troviamo questa carta questa carta questa carta al contrario questa carta questa carta questa carta questa carta e questa è questa carta che cos'è questa carta facciamola vedere 180 punti che cos'è ma che 180 punti questa è la potenza che c'è scritto poi scarlato e violetto poi queste iniziamo con questa qui dai iniziamo con quest'altra e mamma mia è difficile è difficile è difficile perché l'ho aperta da dietro quanti dinosauri mamma mia eccone che cos'è questa ma prendi subito quella speciale voglio vedere quella speciale che è l'ultima questa dall'altra parte l'altra parte questa 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 da notare l'espressione di garaia perché è questa questa che cos'è 200 punti ma che è 200 ma questi qui non sono i punti ma non sono punti scusate scusate allora apriamo qui apriamo quest'altro invece che cos'è cosa ci sarà mai questo mamma mia che bella questo questo mamma mia che c'è scritto mamma mia 210 punti non sono punti non sono punti forza scusa che cosa sono perché loro queste cose qui è la loro vita sono i numeri della loro vita quindi la forza che la forza sia con te una cosa del genere apriamo queste carte gaia sta tentando di aprire questo pacchetto così difficile così complicato ecco mamma mia chi è questo ptero tipo pterodattilo un'altra bellissima un'altra bellissima un'altra un'altra al contrario ecco che bella questa e l'ultima speciale ecco qua ecco qua no no non è mio tuo non è mio tuo quanti punti fai vedere fai vedere ma non so quanta forza c'è scritto niente queste due stop ci stanno altri due pacchetti dai sono sette pacchetti queste sono tutte le carte pokemon di gaia perchè praticamente quelle che sono su scarlate e bionetto sono più quelle potenti potenti ma sta cosa non c'è questa non la voglio rovinare perchè è lunga questo bracchetto paratatam parapapam ma insomma questa qui dove 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 questa carta questa 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 qui al contrario questa qui questa qui questa qui chi sei chi sei chi sei mamma mia come si chiama non lo sappiamo non lo sapremo mai silvali silvali l'unica bustina rimasta l'ultima bustina rimasta speriamo che troviamo qualche altra cosa più bella ma ferma qui il gaia sette bustine è un capitale mi sono costate ah e siamo arrivati alla settima bustina vediamo cosa c'è questa l'abbiamo trovata questa qui ma perchè ai miei tempi le figurine costavano 10 lire a pacchetto eh? gaia lo sai? no 10 lire che carini i burmi sono i burmi questi che carini i burmi carino questo eh? ok questa si vede già carina eh eh questa si vede già al contrario senti ma adesso che tutte queste carte questa qui bellissima eh questa qui questa qui è super bellissima già l'abbiamo trovata in un altro pacchetto è a terra si ce l'abbiamo già questa è già vista quindi doppione questa qui e quella speciale che bella questa non l'ho mai vista questa non l'abbiamo vista ma falla vedere qui scusa eh che cos'è? mamma mia no non si vede scusa eh si ecco qua vabbè ci vede niente ok allora adesso che tu hai hai ora che hai tutte queste carte no? cosa ci farai? beh le metterò ecco le butti per terra le metterò nell'album allora l'altro album è pieno è finito? no non tanto non tanto però in questo ci metterò soltanto quelle che queste già va bene Gaia siccome si sta facendo notte vogliamo fare un trabutino ma è notte ma si vedi che fa buio fuori sono notte ancora giorno ah è giorno va bene siccome papà ha fame mettiamola così facciamo facciamo un salutino a tutti ciao ciao a tutti al prossimo video